E' stato un lavoro lungo e laborioso quello di riallineamento dei conti della regione, il cui iter viene completato dalla delibera di giunta regionale varata ieri, che dovrà essere però sottoposta agli organi di controllo e al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva. L'ultimo accertamento sui residui infatti risaliva addirittura a lontano 2004 e quindi gli uffici hanno dovuto ricostruire a ritroso 14 anni di storia contabile, su impulso soprattutto in una sentenza della Corte dei Conti Primi e della Corte Costituzionale poi, che ha bocciato previsionale rendiconto del 2013, creando così un buco da 60 milioni di euro. Oggi, ha affermato l'assessore al bilancio della regione Abruzzo Silvio Paolucci, i conti sono in ordine, il che però lancia agli uffici la sfida di non ricadere nelle beghe del passato in un caos contabile paragonabile solo a quello della regione Campania. Da questo punto di vista abbiamo finalmente dei documenti più trasparenti, più solidi per qualità e anche per le cifre che evidentemente sono iscritte. Abbiamo un bilancio che da questo punto di vista è prudente, ha tanti accantonamenti e quindi ha tante coperture. La cassa lo dice, quando sono arrivato abbiamo dovuto fare un prelievo di anticipazione di 110 milioni, oggi invece tra sanità e bilancio abbiamo 500 milioni in cassa, quindi vuol dire che abbiamo fatto un percorso di risanamento vero e che ha dato prova di non solo prudenza ma anche di gestione sobria. Dal punto di vista numerico il disavanzo della regione tra il 2014 e il 2015 è aumentato per effetto del cambiamento delle norme nazionali che hanno fatto aumentare gli accantonamenti passati da 174 a 352 milioni. Il disavanzo totale così nel 2014 era di 681 milioni ed è passato a 765 nel 2016. Al netto degli accantonamenti però, ha detto Paolucci, il debito è sceso e l'avanzo di amministrazione è aumentato con un saldo positivo di 38 milioni di euro. Paolucci ha rivendicato anche a sé la norma Abruzzo che ha consentito un piano di rientro dal debito spalmato in 20 anni e parallelamente di non aumentare le tasse oppure tagliare i servizi essenziali. E da questo punto di vista abbiamo garantito le fasce più deboli della popolazione, gli anziani, gli studenti, le persone diversamente abili, i lavoratori, i pendolari. Pertanto abbiamo continuato a garantire questi servizi nonostante fossimo in presenza di un disavanzo aggiuntivo che prima non veniva iscritto e che quando ci siamo insediati purtroppo per l'ERGE è stato iscritto e valeva 770 milioni di euro. Non poco. Io penso che si può essere orgogliosi di questo percorso e si può dimostrare che si può condivare a lavorare lasciando davvero le polemiche ad altri, anche circa i termini della legislatura.